ciao a tutti e benvenuti a un nuovo fantastico video sul mondo msdos in questo video non parlerò di giochi ma andiamo a vedere come rendere come utilizzare msdos nella vita di tutti i giorni cioè cosa facciamo noi con un computer normale o con il nostro cellulare solitamente guardiamo internet browser e così via quindi oggi andiamo a vedere un fantastico eccezionale browser per msdos cioè links eccolo qui all'indirizzo links.twiberite.com abbiamo questo web browser completamente testuale ma molto molto compatibile cioè è molto più compatibile questo rispetto a un firefox magari per windows 98 con il kernel x oppure addirittura internet explorer magari anche la versione 7 8 per windows xp leggerissimo non ha testo non ha testo non ha grafica non ha niente di niente di cose che possono distrarci ma andiamo quindi a scaricarlo una volta andata nella pagina principale basta andare su download scorrere fino a dos binaries qui dice che sono una beta e che possono dare problemi di stabilità ma io onestamente lo uso da più di un anno non ho mai avuto problemi di questo genere questo è l'indice della directory abbiamo bisogno di questi due file eseguibili cvsdpmi e cvsparam.exe e dopodiché la versione adesso io avevo la 2.19 poi l'ho aggiornato la 2.20 ma non ho scaricato ancora la 2.21 comunque non la versione light e andiamo a scaricare la versione intera dopo questo dopo aver scaricato questi file abbiamo bisogno della suite mtcp che va a portare il protocollo tcpp su ms dos l'indirizzo è brutman.com slash mtcp e andiamo a scaricare questo file e sono i file eseguibili binari standard dopodiché abbiamo bisogno questo è fondamentale dei packet driver per la nostra scheda di rete cos'è il packet driver è un driver che va a interfacciare il chip 7 della scheda di rete in modo da riuscire a utilizzarla sia dal punto di vista del tcpp cioè per andare a utilizzarla dal punto di vista del tcpp senza però andare a caricare chissà che tipo non so per esempio il microsoft network client che va a occupare un sacco di ram poi dal nostro punto di vista non serve è indispensabile il packet driver e potrebbe essere un problema perché alcune schede per alcune schede non è così facile da reperire le realtech sono le più di solito le più facili abbiamo anche le tricom e di link ma io vi do un consiglio andate a cercare packet driver for dos vi si apre questa pagina ok e qui ci sono i packet driver per alcuni modelli di scheda di rete per esempio la mia realtech li ho trovati qui oppure andate a cercare il vostro modello o il chipset che c'è sulla scheda packet driver andate a a trovarlo questo è fondamentale senza i packet driver non andiamo da nessuna parte una volta che abbiamo tutti questi file possiamo iniziare la configurazione quindi ritorno di qua il mio studio è proprio uno studio che picchia la luce perfetto e abbiamo finalmente molto più congenial la mia bellissima schermata ms dos non so se si vede ma in alto a sinistra ho un orologio ho un bellissimo orologio digitale che mi dice che sono le 18 e 55 in realtà non sono le 18 e 55 sono le 19 03.03 è una utility tsr è comodissima si chiama alarm clock perché anche anche la possibilità di dare un piccolo segnale a un orario predefinito un orario che possiamo decidere noi altrimenti cercate aclk12.zip su qualche sito che ha questo sui mirro delle bbs o su qualche raccolta di cd magari lo trovate tranquillamente sembra una stupidaggine ma avere l'orologio a portata di occhio sul monitor rende l'utilizzo delle ms dos un po più familiare perché noi siamo sempre abituati ad averlo in basso a destra oppure da qualche altra parte questo è molto comodo perché in qualsiasi schermata testuale lui è lì in alto che 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 mi dice che sono le 19 03 si possono scegliere sia il il colore del carattere il foreground cioè il carattere di background in esa decimale quindi con uno 0f io vado a mettere sfondo nero e lettere bianche con un 5f vado a mettere sfondo viola il colore preferito su lettere bianche ma non siamo non è questo il nostro il punto comunque cercatelo è veramente comodo links una volta che abbiamo scaricato i nostri file li abbiamo portati sul nostro retro computer andiamo a mettere mano alla configurazione allora il mio links ovviamente è già configurato ma è comunque molto breve si decomprime il file eseguibile che è uno zip compresso si mettono i due file cvsdpmi e cvsparam.exe nella stessa directory si va a creare un file che si chiama wattcp.cfg che eccolo qui in realtà è un file di testo dove è necessario inserire l'indirizzo ip che vogliamo avere netmask gateway e i name server che in realtà è quello del nostro gateway io per sicurezza ho aggiunto anche quello di google e questo va nella directory links per comodità anche il packet driver io preferisco inserirlo nella directory links e qui questa parte è a posto dopodiché andiamo a decomprimere il pacchetto mtcp io in questo in questo caso l'ho decompresso in questa in questa directory andiamo a in samples e andiamo a modificare il file samples.cfg anche questo è un file di testo ma in realtà sempre i peli di gata è molto semplice è molto semplice allora fondamentale è inserire questa ricca packet int 0x60 perché va a dare l'interrupt del nostro packet driver non ho né la competenza tecnica né la freschezza mentale per adesso per fare una disamina sul packet driver ma funziona così cioè 0x60 è la configurazione standard dopodiché ci sono un sacco di altre informazioni perché la suite mtcp ha anche del client ftp client telnet un irc e così via dopo potete andare tranquillamente a leggervi tutte le varie è tutto commentato perché in realtà non serve per i nostri scopi non serve qui sotto andiamo a mettere la stessa cosa che abbiamo c'è nel nostro whattcp.cfg compreso c'è anche un list time 86400 nei casi in cui dovessimo andare a inserire un cioè ad avere a prendere l'indirizzo ip dal di hcp perché a volte può essere anche comodo nel nella suite mtcp c'è anche di hcp.exe se lo lanciamo ci penserà lui a configurare tutta la scheda scusate la scheda di rete e andrà anche eventualmente a sovrascrivere temporaneamente quello che abbiamo inserito nei due file di configurazione che abbiamo visto prima una volta fatto messo a punto i samples punto cfg bisogna inserire una variabile d'ambiente che è set mtcp cfg uguale è il percorso del file di configurazione quindi in questo caso è f home mtcp samples samples punto cfg diamo invio ovviamente adesso non lo do perché è già è già compreso nel mio file nel mio variabile di ambiente comunque una volta che partiamo che abbiamo definito dove si trova i file samples punto cfg siamo a posto links lanciamo il nostro packet driver nel mio caso l'ho rinominato per semplicità packet.com 0x60 la mia tricom è stata riconosciuta perfettamente dopo di che andiamo ad aprire links o se no possiamo anche ad avere lanciare il driver del mouse ma non è indispensabile in realtà links ed ecco il nostro browser e voi mi direte ma come il nostro browser è una schermata nera certo perché abbiamo il menu è scomparsa quindi andiamo dove ci sono un sacco di shortcut e ha tutte le funzioni indispensabili per un browser la prima è apriurl col comando g www.google.it per esempio ed eccolo qui ha renderizzato la pagina in maniera anche abbastanza pulita e funzionale e abbiamo in verde i link in bianco sparato le cose che sarebbero in grassetto e in bianco oscuro il testo normale tutta questa palette di colori è completamente personalizzabile cosa ci facciamo con un browser testuale nel 2020 è semplice possiamo anche andare a non so prima avevo bisogno dei dare del direct x 9 su un'altra build che sto facendo avevo già configurato la scheda di rete sotto ms dos non avevo voglia di andare di venire qui accendere il computer eccetera eccetera quindi ho cercato direct x 9 download windows 98 e ho cercato sul sito firefly.pl che è un sito dove si occupa quale al suo interno ci sono tutte le buone raccolte di direct x ci sono demo ci sono anche dei tweets no dei tweets si delle modifiche per tutta la serie 3dfx e così via cerco con google non vado a prendere quello del sito della microsoft ma più che altro perché potrei avere grossi problemi di di gestione della pagina perché qui ha bisogno del javascript ma andiamo sul sito falconfly.3dfx.pl questa è la mia pagina e posso andare a scaricarmi il mio file direct x in questo caso avevo bisogno del direct x 9 scaricami nel 9.0 c mi dice che lui va a leggere il mime del file mi dice che è un application zip io voglio salvarlo direct x 9 per esempio direct x 9.zip e gli do ok e questa è la mia pagina di salvataggio del file tempo stimato sei minuti e mezzo non posso stare sei minuti e mezzo a guardare magari sì però non è bello quindi va in background e io vado avanti con la mia navigazione internet freccia sinistra e torno indietro freccia sinistra e torno indietro questo posso andare a vedere nel 2020 con un browser testuale io nel frattempo mi sono scaricato mi sono salvato dei bookmark per esempio open online il giornale di ventana è molto fruibile da questo browser perché qui abbiamo le sezioni che ci sono anche tipicamente nel nella pagina dai browser diciamo moderni però ho il mio bel il mio bel link con sotto la preview dell'articolo posso andare a leggermi per esempio scorro un po scorro un po ma mia c'è un sacco di notizie che scarico vado a vedere il link e mi posso leggere la mia news con un browser testuale velocissimo senza pubblicità senza pop up senza cookies senza niente di niente nel frattempo posso andare sul mio menu download e mi dice che il download delle direct x9 è al 24 per cento vabbè ho tempo posso andare avanti come si può vedere con freccia su e freccia giù passa da link a link invece con pagina su e pagina giù fa scorrere direttamente la pagina adesso purtroppo c'è il mio orologio in alto a destra che eccolo qui che mi chiude ma si vede p1 p2 p3 e così via questo orologio è comodissimo perché do uno sguardo sono le 19 e 12 minuti benissimo torno indietro posso anche andare a fare delle ricerche sulla wikipedia perché forzando il rendering della pagina per i dispositivi mobile eccola qui perfettamente consultabile sotto abbiamo la palla la il testo che ci indica il link evidenziato dal cursore la pagina di di la pagina la l'articolo di oggi è il palazzo ducare di venezia bellissimo quindi posso andare a leggermelo molto interessante posso andare a leggermi la voce direttamente quindi vado clic mi porta direttamente sulla pagina e non più sull'anteprima qui sarebbe un'immagine che io non posso vedere ma in realtà posso andare a scaricarla quindi io vado a prendermi 640x427 invece con immagine jpeg cosa facciamo se io faccio visualizzare mi fa vedere il contenuto del file non è molto visibile andiamo su salva io mi vado su palazzo.jpeg allora facciamo così interrompiamo lo scaricamento del file perché ok sarà solo per far vedere quindi mi sono scaricato il mio bel file posso anche andare a vedermelo quindi io ho il dls palazzo.jpeg lxpeg che è un'altra applicazione visualizzatore fantastico e sotto ms.dos posso anche vedermi questa fantastica immagine del palazzo ducale ma molto bella va bene che magari devo fare una ricerca devo fare magari sto andando sto scrivendo con quark express oppure con l'adobe page maker magari ho bisogno di andare a cercare i browser su windows 3.11 ci sono veramente una pena vera da usare perché non funzionano danno un sacco di errori un browser di testo aggiornato quest'anno tra l'altro anzi al mese scorso è estremamente comodo poi vabbè mi dice che l'immagine originale postata su flickr.com però in questo caso qui è già la visualizzazione è già abbastanza difficile difficile perché sebbene sotto abbia anche il link quindi so cosa sto andando a salvare però non potendo in effetti visualizzare graficamente l'immagine questo mi risulta un po' scomodo quindi abbiamo le notizie le abbiamo viste scaricare file le abbiamo viste cosa abbiamo ancora nel mio bookmark che nel frattempo vado ad aggiungere poi perché quando trovo qualcosa di interessante posso creare dei folder quindi delle sottodirectorie oppure andare a salvare o modificare o cancellare degli archivi per esempio andiamo a scaricare www.google.it per esempio abbiamo visto che c'era una versione nuova io adesso utilizzo un links 2.0 abbiamo visto che esiste una versione 2.21 quindi andiamo a scaricarla links text browser cerco con google eccolo qui il links che abbiamo visto anche sul mio computer principale vado in download a quel mouse è ancora più comodo volendo ma e tra l'altro ho visto che ci sono ok eccolo qui perfetto vado sugli archivi vado sui binari msdos invio e ho la stessa identica pagina che abbiamo visto prima posso andare qui faccio un doppio clic poi vado a salvare il file e se voglio vado a scaricarmelo molto interessante sia il... poi vabbè insomma qui ci sono un sacco di altre informazioni posso addirittura andare a salvarmi la pagina in formato testo quindi così come è impaginata posso andare a fare salva documento formattato links anzi no facciamo temp.txt lui mi va a salvare la pagina vado in os shell edit temp.txt e questa è la pagina esattamente come è stata renderizzata dal motore del motore interno del browser quindi viene molto comodo anche se dovessi fare del copy e incolla magari perché appunto sto scrivendo qualcosa sotto windows 3.11 o anche sotto msdos e diventa diventa molto comodo posso svuotare la cache che inevitabilmente va a popolarsi qui c'è un sacco di informazioni su come si sta svolgendo la navigazione opzioni html che queste vanno a... insomma a seconda di quello che mi serve posso andare a dividere le tabelle, il link alle immagini, il nome dell'immagine e così via qui abbiamo enter per seguire il link o d per scaricare il link perché può succedere che magari... ecco ecco... adesso l'ho educato a scaricare i file però può succedere che alcuni file li visualizzi in questa maniera quindi va proprio a fare in modalità testo no? quindi come posso scaricarlo se dando invio me lo visualizza? semplicemente col D, premo D, obbligo links ad andare a scaricare quello che c'è che è un po' come tasto destro salva destinazione come, no? negli altri browser posso addirittura visualizzare il sorgente con backslash e poi qui posso impostare la lingua, i seti di caratteri, le opzioni di rete quindi ci sono un sacco di supporto ovviamente all'SSL con... volendo anche i file per la codifica posso salvare la history di quello che ho visitato qui vabbè addirittura mail e telnet, insomma se avessi dei software esterni e questo è il nostro image blocking manager, vabbè, perché dopo alla fine le estensioni dei file ovviamente lui mi... posso anche andare volendo a dirgli la jpeg no, c'era... adesso faccio la mia bella figura associazioni io posso dire jpeg tx.com per cento vediamo un po' chiudi questa è una prova, in effetti non ci ho mai pensato ma torniamo la pagina wikipedia e palazzo ducale vediamo un po' eccolo qui mmm... no, eh beh, andrò a vedere, secondo me c'è anche la possibilità di andare ad associare al file che vado a scaricare perché tipo sconosciuto, image jpeg facciamo un'altra posta qua, mamma mia, sempre... purtroppo tendo sempre a... purtroppo tendo sempre a... a perdere tempo tipo contenuti image barra jpeg anche se non sono convintissimo di questo, eh no... vabbè ai 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 modifica jpeg ah, perché era... facciamo jpeg adesso così dovrebbe funzionare apri apri bellissimo allora mamma mia lxpeg lxpeg è un... 5.utility 5.utility questa roba devo venirne a capo perché lxpeg vediamo ah là ci arrivo con calma ma ci arrivo in realtà sono un po' stanco ma questa qua quando imparo cose nuove è sempre bello per cui possiamo addirittura dare le nostre associazioni in modo che quindi se io per esempio vado su un altro sito themodarchive.org che è un raccoglitore di file mod di pubblico dominio posso andare a dirgli che quando tipo questo file mod invece di salvarlo di proprio di farmelo ascoltare per esempio saldo questo qui ok è un mod io vado a guardare questo tipo di contenuto e poi andare ad associare un file esterno per andare ad associare un file esterno io consiglio questo sito eccezionale che è dosprograms.info.tt il quale contiene una raccolta eccezionale di strumenti per il nostro adorato MS-DOS quindi dopo questa... il video è partito bene verso la fine mi sono dilungato ma comunque c'è sempre da imparare questa è una figata unica io vi ringra... sto registrando sì mamma mia ho una paura di non aver premuto REC io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata il fantastico mondo di MS-DOS grazie per aver visto il video e ci vediamo ciao